I benvenuti! Vi do una bella notizia, la festa è finita, ve ne potete tornare. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Dobbiamo mettere sottosopra Santo Stefano Quisquina, li svegliamo tutti come abbiamo fatto ogni anno, accendete i motori, salutiamo Santo Stefano Quisquina, al 3 lanciamo un bel ciao, pronti? Io so contare sino a 2 però, io ci provo se arriva a 3, allora non fidatevi mai degli amici, allora un bel saluto a Santo Stefano Quisquina, 1, 2, 3! E voi pensate che questo è un saluto per Santo Stefano Quisquina? Questo potrebbe andare bene per Linosa? No, di più, di più, di più. Riaccendete i motori per favore, perché il sindaco vuole che tutti si debbano svegliare, perché tutti si devono accorgere di voi. Ancora ce ne sono 30 persone a Santo Stefano che dormono. Li svegliamo? Uno, due, tre! si sono svegliati. Bene, allora io vi auguro una buona giornata, tanto sole, tanta acqua, probabilmente il sindaco ci ha preparato il regalo, acqua delle fontanelle, vedrete che cadrà di là, comunque delle fontanelle, ma soprattutto tanta gio, tanta gio, come gli asinelli siete, via via, e sono finite le scuole. Allora ditelo voi, tanta gio! Buon divertimento! Scusate, mi inserisco io, perché prima di andare...